Io voglio una pena esemplare per riflesso a tutti gli imprenditori, così no, non si deve lavorare, perché mia figlia è un anno, quattro mesi e 19 giorni che è morta. La voce di Emma Marrazzo si spezza all'uscita dal Tribunale di Prato. L'udienza preliminare per la morte della figlia Luana Dorazio, l'apprendista rimasta schiacciata in un orditoio nel maggio 2021, a soli 22 anni, si è chiusa con un rinvio al 27 ottobre. I due principali imputati, Luana Coppini e Denele Faggi, titolari dell'azienda di Montemurlo, l'orditura, hanno chiesto il patteggiamento per omicidio colposo e rimozione delle cautele antinfortunistiche, pena massima 5 anni. Credo che siano scelte soggettive e che insomma tutti possiamo un po' intuire quali possano essere un po' gli aspetti che ti portano a questa scelta. Affrontare un processo sarebbe stata una cosa dolorosissima per tutti. Richiesta su cui si esprimerà il PM prima della decisione della giudice su pena e risarcimento. La cifra di un milione di euro offerta nei mesi scorsi alla famiglia Dorazio sarà incassata da questa come provisionale in vista di un giudizio in sede civile. Ammesse quattro parti civili, la madre di Luana, Inail, Anmil e Femca Cisla, assenti enti locali, associazioni di imprese e altri sindacati. Escluso il padre naturale del figlio di Luana ha rinunciato invece il nonno materno Francesco per proteggere dal clamore il piccolo di appena 6 anni. È un accordo che assume la difesa con il pubblico ministero, noi possiamo solo stare a guardare. Pensate che Luana avrebbe avuto maggiori giustizie in un ritordinaio? Diciamo che Luana non c'è più. Grazie.